Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovissimo video, piccolo video aggiornamento, per chi è veterano in questo canale sa che ci sono più video aggiornamenti rispetto a video normali, è da un mese che non pubblico un video, l'ultimo video è stato quello con Angri Terrone dell'hamburger di Ciccio Gamer che vi invito ad andare a vedere ovviamente se non l'avete visto perché sono due video, una prima parte e una seconda parte perché è tanta roba, niente torno qua sul canale youtube con un video aggiornamento perché ho delle cose molto brevi, delle cose da dirvi, infatti è già due volte che registro questo video ma prima l'ho registrato lì ma non c'era la luce adeguata, allora ve lo rifaccio da qua. Volevo solo dirvi che da adesso voglio ripartire per bene col mio canale youtube, ok? Adesso ho più tempo da dedicarci, sto organizzando dei format per voi da portare sul canale, format fatti bene, è da un mese che sto cercando di organizzarmi con diverse persone che lavorano e creano contenuti e quindi vorrei fare proprio dei format diversi, ok? perché poi è stata la cosa che mi ha contraddistinto, cioè nel senso non ho mai preso una linea su questo canale, ho sempre fatto tante cose perché la mia mente viaggia sempre quindi mi piace condividere diverse mie passioni. Allora innanzitutto un format che è stato storico su questo canale youtube che è il format di manga terminerà per sempre, quello è l'unico format che terminerà perché sto vendendo i miei fumetti, molti non lo sanno, molti saranno traumatizzati, parlo dei miei amici soprattutto che mi conoscono molto bene, li sto vendendo per un motivo però lo affronteremo in un altro video, ok? Questo è un altro contenuto che porterò sul canale, però intanto volevo dirvi un format che non esisterà più al momento. Come vi dicevo sto organizzando diversi format già che partiranno da giugno, sto organizzando insieme a un mio amico che gestisce una pagina social calcistica, stiamo organizzando il format inerente agli europei di calcio che ci saranno quest'anno da giugno, quindi faremo poi un video introduttivo ma vedrete tutto quanto, sarà tanta roba, abbiamo scritto tutto il progetto, è figo, molto figo. Poi troverete ancora la collaborazione con Michele Food, con Angri Terrone che salutiamo in questo video, faremo anche con lui, abbiamo messo giù un piano per fare un bel format, food challenge, sfide in cucina, tour per il suo canale, cioè delle cose incredibili che vedrete e poi insieme a un'altra persona che in verità ancora ne devo parlare, voglio organizzare un format di intrattenimento tipo radio, vedremo un attimo come si evolverà la situazione, però comunque questo è quanto, mi piacerebbe molto, era già una mia idea di due anni fa di fare un format simile alla radio, quindi adesso vediamo se riusciamo a realizzarlo. Una cosa molto importante è che torneranno le interviste dal vivo, essendo che molti di voi sanno che ho uno studio dove ho preso i microfoni, le luci, tutto quanto, fatto per bene, quindi torneranno le interviste dal vivo, quindi il salotto del gasgasto sta tornando ma questa volta dal vivo. Ho già una lista di persone che mi interessa da intervistare, che ho conosciuto anche nel corso di questi mesi e altre che conoscerò a breve, vedrete un sacco di persone interessanti sia nell'ambito lavorativo, quindi lato imprenditoriale e tutto quanto, ma anche persone che mi ispirano molto, anche persone che magari ispirano al di fuori del lato lavorativo, che possono comunque dare una mano sia a me, conoscendole tramite l'intervista, ma sia anche alle persone che mi seguono, quindi il format di interviste sarà un format utile per tutti, dove impareremo qualcosa di nuovo sotto ogni punto di vista. E infine ragazzi, un format che per me è molto importante, che mi piacerebbe renderlo principale sul canale, sono i vlog, le mie esperienze personali, i daily vlog, i weekly vlog, cioè diciamo che come ho fatto l'anno scorso con Dubai, che ho fatto la mia prima esperienza vlog, che devo ammettere mi è piaciuta molto e secondo me è venuta anche molto bene, essendo che adesso col mio nuovo lavoro viaggerò, vi porterò con me, diciamo che unirò le due cose, perché il vlog è un format molto bello, dove posso condividere delle cose che mi ispirano, ok? L'anno scorso vi ho fatto tutto il viaggio di Dubai, vi invito ad andarlo a vedere, c'è il format, si chiama The Great Summer Tour a Dubai, in base a dove vado, se è la prima volta vi farò un contenuto simile, ok? Quindi faremo il viaggio, tutto quanto, cioè programmo in base al tipo, cioè programmerò il vlog in base a cose che sono interessanti da farvi vedere, che possono esservi utili anche se volete andare a visitare un posto, Diciamo che il vlog è molto bello, perché condivido la mia esperienza e magari posso aiutare anche qualcuno se non è mai stato in quel posto, vi faccio vedere quello che sto facendo, la mia esperienza proprio del viaggio, le cose che visito e tutto quanto, quindi è molto figo. E poi chissà le persone che incontreremo. Sto organizzando un vlog importante adesso, che vedrete durante il mese di giugno e di luglio, Diciamo che i contenuti stanno arrivando, cioè quando sto registrando adesso non è ancora partito nulla, ma sta partendo, sta partendo tutto. Quindi preparatevi a nuovi vlog nel corso di giugno e di luglio, perché li sto registrando, diciamo che quando uscirà questo video li starò già registrando. Però più o meno questo è quanto ragazzi, più o meno questo è quello che volevo dirvi un po' tra gli aggiornamenti, Spero che sia stato tutto abbastanza chiaro, quindi sono carico di tornare qua su YouTube, non vedo l'ora di iniziare appunto a fare i format che vi ho detto, perché ci credo molto e voglio proprio dare un'impronta professionale al mio canale, perché oltre al contenuto ci tengo comunque alla qualità. Quindi niente, io ragazzuoli vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un abbraccione grande, ricordatevi che non tutte le ciambelle escono col buco e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!